Ok, ciao ragazze, oggi, non ti offendere Enzo, ragazze perché insomma prevalgono sul numero, allora faremo una piccola registrazione su Edpuzzle, una volta fatto l'account come insegnante, qua sulla sinistra voi trovate una serie di canali, c'è scritto popolare, in realtà canali tematici, didattici, YouTube è abbastanza generico, non potremmo considerarlo tale, ma comunque c'è, però abbiamo tante risorse come Khan Academy, National Geographic, Numberphile, Edpuzzle, Edpuzzle al suo interno ha una serie già di risorse preparate da colleghi in cui hanno ritagliato dei video e hanno inserito delle domande ogni minuto, minuto e mezzo, perché hanno ritagliato il video? Perché è fondamentale da due ore di puntata di Piero Angela prendere il pezzo che ci interessa, e non chiedetemi subito di prendere un pezzo all'inizio e uno alla fine e montarli, perché quello è un altro corso, non è quello mio, quello è il secondo piano, sto scherzando, perché il video editing è un'altra cosa, a noi interessa soltanto prendere il pezzettino di video senza bisogno di avere grandi competenze sul video editing, ok? Ho reso l'idea? Perfetto. Vado a scegliere all'interno del motore di ricerca YouTube i babilonesi, qua devo dire che ho raggiunto un silenzio incredibile da quando sto registrando, sono i babilonesi che interessano. Se notate vado a prendere un video che dura, questi sono già abbastanza brevi insomma, no? Questi 4 minuti e 44, questo da 7 minuti prendiamo, perché voglio ridurlo un po' per farvi vedere come funziona. Seleziono il video, ok? Vediamo se lo fa. Nel momento in cui seleziono i video sarebbe opportuno guardarlo, guardo il video e decido se va bene o no. Nel momento in cui decido se va bene, capisco quali sono i minuti da prendere e fornire ai ragazzi per introdurre la mia lezione capovolta, perché da questa mi interessano solo alcune parole chiave, alcuni passaggi, alcune frasi, non tutto, ok? Cosa faccio? O assegno il video tale e quale, e comunque rimane senza domande, oppure vado su edit, quindi in basso a destra trovate la voce edit. Quindi, cliccando su edit vi faccio notare che compare in basso una barra degli strumenti che mi dà la possibilità di dire quando deve iniziare il mio video e quando deve finire il mio video. Per esempio dei 7 minuti e puntini puntini, io dico parti dal minuto 1.08 e finisci al minuto 5 qualcosa, ok? 5.09 perché quel pezzo lì è il pezzo che mi interessa per introdurre l'argomento. Il primo minuto e l'ultimo minuto, adesso provo a schiacciare qualcosa che si sfermerà, ok? E qual è il video? Sì, però ci mettiamo due secondi qua, abbiamo ridotto il pezzettino che ci interessa e basta. Non possiamo montare un altro pezzo, facciamo un altro video. Nel momento in cui introduce un argomento, bastano 6-7 minuti, 10 minuti, e al massimo fate due video da 10 minuti, ma non un video da 20, perché il successo... A questo punto, fatto questo, inserisco i miei quiz. Clicco qua, decido dove voler inserire, a quale minuto... Avete notato che qua è diventato 4.01? Prima era 7 qualcosa, l'ha già tagliato, senza bisogno di fare nessun corso di formazione. Io dopo il primo minuto voglio inserire la prima domanda. Minuto, minuto e dieci, deve avere un senso, non è che deve essere categorica la cosa. La domanda, poi se è una domanda aperta, diceva lei, e lo puoi controllare se sei in presenza, oppure la sera a casa, però insomma non puoi dare un feedback immediato al ragazzo, oppure puoi scegliere la risposta multipla o la scelta multipla. Qua sarebbe bello scrivere la domanda e poi una serie di risposte. Provo a scrivere la capitale della Francia, non c'entra niente, però è la domanda che mi aiuta subito a scrivere qualcosa. Qua la prima, se è quella esatta, scriverò Parigi, qua scriverò Napoli, Napoli magari, e poi scriverò aggiungi una terza almeno, che potrebbe essere Lyon, così una assurda, una che potrebbe confondere, la logica è sempre quella, mi rivolgo a docenti, quindi se è l'esatta, anziché essere la prima e la seconda, posso invertirlo, e se abbiamo più risposte esatte, posso mettere la cuspida verde su più risposte esatte. Dimmi tutto. Nel momento in cui ho fatto, no no, sto spiegando adesso Eddie Puzzle, nel momento in cui ho trovato il video su YouTube, ho cliccato su Edit, e l'ho modificato. Dopo lo vediamo, così adesso finisco la registrazione, poi dopo lo vediamo. Non lo so, però 6-7 io le ho messe, quindi voi state tranquilla nonno. Andiamo su Save, andiamo su Save, e lui mi fa la domanda in questo modo. A questo punto prendo la mia timeline, e vado al secondo minuto. Clicco sul punto di domanda, inserisco questa volta un suggerimento, siccome lui mi parla dell'ipotalamo, potrebbe andare su www.vv.it. www.vv.it per fare un esempio, ok? Faccio proprio un link, faccio un link, eccolo qua, www.vv.it Magari qua lui trova l'approfondimento, adesso ho messo Google, ma dovrei mettere proprio copiare e incollare il link. Quindi si blocca lì, lui trova il link, clicca, legge l'approfondimento, e poi ritorna sul video. Questa è un'altra potenzialità. E poi potrei mettere una domanda aperta, facciamolo, timeline vado avanti, poco utile secondo me quando è asincrona, utilissima quando è asincrona, cioè quando siamo in presenza, clicco sul punto di domanda, domanda aperta è la prima, allora descrivi puntini puntini, ok? E questa è la domanda aperta. Salviamo, e abbiamo preso un video, ridotto le dimensioni, inserito tre domande, la cui risposta è all'interno dei vari framework, abbiamo finito il nostro lavoro, assegniamo, salviamo, clicchiamo su finish, e assegniamo l'attività alla classe. Se la classe non ce l'ho, aggiungo, sì, da un po' di anni che faccio sta roba, quindi ne ho un bel po' di caso, adesso sono qua e faccio, aggiungi nuova classe, la chiamerò, metcatania, ok, descrizione, corso, eccetera eccetera, puntini puntini, perfetto, create class, assegniamo il video alla classe, ok? Potrei addirittura, prendere il link di questo video, senza assegnare la classe, e renderlo pubblico a tutti, lo copio, lo metto nel registro elettronico, nel momento in cui ho il video qua, guardate un po', perfetto, guardo questo video intanto per farvi vedere come funziona, che lui si deve bloccare al minuto e sette, adesso magari non riusciamo a vederlo tutto per ragioni di tempo, dopo lo guardate, però mi dice già che al minuto e zero sette c'è una domanda a risposta multipla, e poi c'è un'altra domanda qua, ok, ritorno indietro, vado sulla home page, ecco share, condividi e assegna, se vado su condividi, posso prendere questo link, copia link, vado su un'altra pagina, per farvi vedere che funziona, clicco qua, e lui lo riconosce, volendo voi adesso potreste vedere questo video col vostro smartphone, facciamolo, prendo questo link, mi diverto perché salta una cosa all'altra, ma ci tengo a questa cosa qua, vado su una pagina bianca, e scrivo, QR code generator, QR code generator, che è inglese, ok, e non barese, allora, vado su QR code generator, qua, ognuno ha i suoi problemi, io mi rendo conto che sembro più scozzese, che, a questo punto ho creato questo QR code, e chiedo a tutti quanti voi, scarico il QR code, ci metto un attimo, fate la scansione del QR code, guardate il video, rispondete alle domande, perché ho creato un link pubblico, non assegnato alla classe, ho preso il link, qualsiasi link, lo metti in QR code generator, lui ti crea questo codice, diciamo che ho fatto, tre lezioni in uno, signori, vi ho parlato di Edpuzzle, QR code, e di SkinCastomatic, poi non so, quanto avete apprezzato, è bellissimo, in questi momenti, io fotografo voi, perché sembra che state, fotografando me, e questa è una cosa, fondamentale, QR code, se avete lo smartphone, e non avete l'applicazione, scaricatela, QR code reader, senza applicazione, ok, io ho l'applicazione, perché ormai, web query, non lo sapete, grazie, quindi adesso questa cosa qui, l'ho imparata io, mi fa piacere dopo la scrittura, web, QR, allora ragazzi, mentre voi fate la scansione, io mi permetto di stoppare il video, perché sto ancora registrando su ScreenCastomatic, adesso non è che ci possiamo dilungare, e vivere una vita parallela, quindi a questo punto stoppo il video, ciao buon lavoro, giusto per il video e non per voi,